Per agosto di solidarietà per il sindaco De Magistris, come da tradizione la giornata è dedicata alla visita di alcuni fra i servizi di accoglienza della città. Prima tappa al centro Signoriello di Secondigliano, struttura residenziale che oggi ospita 14 persone anziane. In tarda mattinata un passaggio al centro Salvatore Buglione in via Pavia nei pressi della stazione centrale, importante struttura di prima accoglienza per persone bisognose senza dimora e immigrati che attualmente offre servizi a oltre 1800 utenti, fra cui l'assistenza legale e quella sanitaria. A mezzogiorno una breve pausa in piazza nazionale per il consueto augurio di buone vacanze ai lavoratori della polizia locale. Sono fiero di fare il sindaco di Napoli e di avervi al nostro fianco e al mio fianco. Buon lavoro e buon ferragosto a voi e alle vostre famiglie. Auguri di nuovo. Grazie, grazie. A seguire visita al centro Mario e Chiara a Mare Chiaro che durante la bella stagione ospita 600 ragazzi per le vacanze estive. Gestita in collaborazione fra lavoratori del comune e cooperative sociali, la struttura accoglie bambini fra i 6 e i 14 anni come ospiti del soggiorno e ragazzi fra i 15 e i 18 anni per esperienze di formazione come assistenti degli educatori. È una giornata, come giusto che sia, dedicata a chi ha più bisogno. Tutta la città, luoghi simbolici, chiaramente i luoghi sono tanti, anche in questi 5 anni ne ho visitati tanti e tantissimi altri visiteremo nei prossimi mesi, ma soprattutto per dare non solo vicinanza e solidarietà, ma gesta concrete di miglioramento e vicinanza a chi maggiormente soffre. Questo giro di questa giornata è stato forse particolarmente bello perché mentre si è riusciti a vedere una città viva, piena di persone, di turisti, anche di napoletani che avevano il piacere di restare in città perché ci sono tanti eventi e tante manifestazioni a cui partecipare, intanto c'è anche una parte della città che è altrettanto viva, partecipe e attenta appunto alle necessità delle persone che invece sono meno fortunate. È su questo che noi dobbiamo puntare, sulle forze che noi abbiamo. La giornata si è conclusa con un incontro nell'Istituto delle Figlie della Carità che si occupano fra l'altro di minori a rischio.